E buongiorno a tutti amici, ancora uno splendido panorama ormai autunnale, però sono bei posti, bei bel vedere questi qua, e stamattina, però non vi faccio vedere questo per parlare di paesaggio, ok, ma per affrontare il fatto di cronaca d'ora la greca che sta avendo delle grosse evoluzioni amici, adesso ve ne parlo, ok? E quindi carissimi amici, mi sono fermato in questo bel vedere perché vi devo parlare di d'ora la greca, è un caso che mi sta appassionando perché ho tutta la convinzione personale, non solo io, che si possa trattare dell'ennesimo femminicidio, perché molte cose non convincono di questa situazione, molte, molte cose. Quello che è accaduto nella notte, fa venerdì, scorso e sabato, è inquietante, per certi aspetti strano. Antonio Capasso è il nome, Antonio Capasso è il nome del fidanzato, che ha fatto, diciamo, una dichiarazione che lascia perplessi, cioè il fatto di aver avuto una semplice discussione, dice, nemmeno accesa, perché lei sostanzialmente era un po' geloso di lui e poi lei tutta nuda, cioè, vedete un po' la situazione, lei tutta nuda, all'improvviso apre il balcone e si lancia giù, e apre le imposte del balcone e si lancia giù. E' una cosa che non sta né in cielo né in tesa, perché innanzitutto, ove mai ci fosse stata una discussione in cui lei era gelosa di lui, eccetera, allora già la nudità non si sposa, diciamo, con la situazione, perché di solito uno si è stato arrabbiato, magari minacci di andarsene via, perché stavano a casa di lui, lei c'aveva un'altra casa, quindi uno magari sta vestito e si arrabbia, si veste, se ne va, il fatto di essere stata ritrovata completamente nuda dà delle grosse perplessità e non sono solo queste. Comunque, poi anche per il fatto della serata, passate in un paio di pub senza qualsiasi tipo di problematiche, si vede anche dalle foto, eccetera, eccetera. E così come i familiari, le amiche, tutte, non avevano dato adito a una personalità di tipo complesso. Vedete, anche il mio maestro Raffaele Morelli lo dice spesso. Una personalità che magari ha ispirazioni di suicidio o delinquenziali, in qualche modo, non è che sono situazioni improvvise. È una cosa che si sedimenta dentro e dà adito a parecchi, tanti segnali che poi vanno a sfociare, in qualche modo. È come la violenza, no? La violenza fra la coppia non è che sfocia all'improvviso in un femminicidio. Ci sta qualcosa che si sedimenta e che cresce e che lievita. Quindi il fatto che sembra veramente scontato e verificato che questa ragazza fosse veramente una ragazza del tutto normale, fra virgolette, nel senso che non avesse problematiche. Mentre invece sta emergendo da alcune testimonianze che fosse lui il geloso. Il geloso tant'è che un'amica riferisce che le prendeva a Dora, le prendeva il telefono, controllava. Già questo è un qualcosa che non si dovrebbe mai fare, ma dimostra come il soggetto non era, come lui riferisce, normalmente innamorato e che era lei la gelosa. Ma io credo che fosse tutto il contrario. Ora, l'avvocato della famiglia della ragazza, che è Renivaldo la greca, dice che è impossibile che Dora abbia pensato a un gesto estremo, non era depressa, non aveva problemi, non aveva nessun precedente, quindi non c'era alcuna sintomatologia che potesse far pensare al suicidio. Quindi la cosa importante, carissimi amici, è che i RIS hanno portato via l'intera infesiata, quel pezzo di infesiata, dove si ipotizza che la ragazza addirittura abbia lasciato impronte perché nel disperato tentativo di aggrapparsi. ciò è importante perché significa che c'è l'ipotesi che sia stata spinta giù nonostante il suo tentativo di resistere. Quindi ora non si sa come mai lei fosse nuda, certamente fosse stata sorpresa, forse diciamo certamente si ipotizza che con la sua volontà sia stata portata fuori e che lei in un estremo tentativo di salvarsi si sia appesa perché questo fatto di addirittura tagliare, tagliare questa parte di infesiata per esaminare, per esaminarla bene perché qualcosa è uscito fuori, qualcosa è uscito fuori dall'autopsia, evidentemente delle scoriazioni sospette ai palmi delle mani come per un estrema tentativo di appendersi perché certamente uno che va e si vuole suicidare si getta ma non è che tenta disperatamente di mantenersi. Quindi questo fa pensare molto. Per il momento il giovane è indagato di istituzione al suicidio e non poteva essere altro perché certamente se non ci sono gli elementi non può essere altro. Poi leggo che dall'autopsia adesso bisogna vedere esattamente cosa è emersa però non sembra assolutamente che ci siano cose di droga, di assunzione di droga oppure di alcol in eccesso. No. Quindi la situazione era totalmente fuori da questa logica e quindi qualcosa è successo. Sono venuti fuori dalle testimonianze dei vicini di casa che all'inizio dicevano di non aver sentito niente. Qualcuno adesso è venuto fuori e dice di aver sentito un litigio e sembra da alcune indiscrezioni che il litigio fosse con la voce di un uomo che gridasse forte e la donna che era anche che gridava ma in una forma di difesa. Questa è un'indiscrezione che è stata raccolta che deve essere confermata ma se così fosse allora l'imputazione potrebbe aggravarsi per Antonio Capazzo potrebbe aggravarsi perché vedete non è possibile. Questa ragazza per quanto io ne sappia era una ragazza che non solo di un'intelligenza e di un equilibrio unico senza alcun tipo di precedente di qualsiasi stranezza che vogliamo dire. Quindi faceva supplenze le persone alleate nelle scuole. Aveva un suo progetto di vita. Si era innamorato diciamo di questo giovane che però sta emergendo. Aveva su di lui su di lei diciamo questo controllo e quindi chissà che quella sera magari lui nella sua mentalità avrà visto avrà scoperto qualcosa il telefono una discussione e e poi qualcosa è degenerato però se viene fuori che la ragazza si manteneva disperatamente prima di volare giù e allora vedremo seguiremo seguiremo. Io sono in questo posto meraviglioso che vi ho fatto vedere prima e da questo posto vi do insomma appuntamento al prossimo video voglio concludere solo ecco un'altra panoramica perché so che che vi fa piacere vi fa piacere vedete qui c'è sono le colline il tempo non è buono queste sono le isole dei galli benissimo vedete bellissimo quindi alla prossima per aggiornamenti ciao a tutti grazie sempre che mi seguite